Il calcio di Lega Pro Un giorno finalmente anche due partenze, Colantoni e Santa Guida, oltre a Sciarra, il cui contratto era stato già risolto nella giornata precedente. Intanto Vullo prepara la gara in casa della vice capolista Pontedera. Come già annunciato, il Campobasso porta a casa il difensore Silvestri da valutare, ma già a disposizione per Pontedera. E' uno scambio di 94 con il Genova. Jovine se ne va in Liguria, il classe 94 militava nella Beretti di Rienzo e aveva anche debuttato in quel di Poggi Bonzi. Il Campobasso prende in prestito dal Genova il classe 94 Daniele Buongiorno. Dieci presenze con la maglietta genoana. Il giocatore è stato aggregato alla prima squadra di Vullo. Il tecnico rosso-blu starebbe pensando a una nuova esibizione con la difesa a tre, tutta senior, per allargare due under sulle fasce con compiti di spinta, ma nel contempo anche di difesa. Manzioni che, se dovesse essere confermata l'ipotesi 3-5-2, spetterebbero a Esposito e Palmiero. Altro under, quest'ultimo gentilmente messo a disposizione dalla squadra Beretti, contenitore dal quale Vullo attinge spesso e volentieri. Ieri Reiss ha lavorato a parte, ma sarà della partita nei pressi di Pisa. L'attacco non varia. Fella e Maiella saranno gli incaricati di bucare la difesa della seconda della classe. Nel corso dell'allenamento di ieri pomeriggio, secondo blitz di un gruppetto di tifosi in numero inferiore rispetto a sabato scorso. Gli Ultra hanno iniziato qualche coro di protesta nei confronti di Capone, facendo chiaramente intendere che non è la squadra il bersaglio delle critiche del tifo. Uno sguardo anche agli incontri degli altri competitori per la salvezza. Il Melfi ha una trasferta a Chieti che vale le stesse difficoltà di quella rosso-blu. L'Interreggio potrebbe approfittarne al granillo contro il Gavorrano, che comunque non scenderà in Calabria per regalare punti. La Versa riceve il Martina, fresco di nuova guida tecnica. Il Fondi, quasi senza speranze, affronta il Teramo, una delle migliori squadre del momento. Per le squadre giovanili rosso-blu, domani in campo, la formazione Berretti, i ragazzi di Carmine Renzo, saranno ospiti della Latina. Oggi su Tele Molise Sport, canale 112, verrà trasmesso uno speciale su tutti i gol del campo basso, nella stagione 82-83, stagione del campionato di Serie B, quando appunto i rosso-blu veramente debuttarono nel campionato cadetto, conquistando la salvezza. Lo speciale andrà in onda sia alle 16 che alle 20 e 30. Come ogni venerdì è arrivato il momento della rubrica curata da Sergio Genovese, fuoricampo, che oggi ci parla di due bandiere del campo basso degli anni 60, purtroppo venuti meno nelle scorse settimane. Alcune settimane fa sono scomparsi, in rapida successione, due ex giocatori del campo basso che ci hanno fatto tornare alla mente la bella epoca del vecchio Romagnoli. Sia pure attraverso un feedback molto complicato, Gino Scasserra e Mario Ruzzi ci hanno riportato verso quella storia incommensurabile, che faceva del vecchio stadio nella pancia della città un forbinabile luogo di aggregazione sociale. Gino Scasserra e Mario Ruzzi in più catturarono, assieme ai compagni di squadra, i ragazzi dell'epoca perché oltre alla parrocchia, la società sportiva e la scuola non esistevano altri punti di riferimento. I colori delle magliette che indossavano così belli, lo dobbiamo ammettere fuori da ogni sciovinismo, il più delle volte ci apparivano opachi perché visti da lontano. Le tribune per i ragazzi senza quattrini non erano quelle di ordinanza, ma i finestroni lunghi e stretti del garage dell'Enel prospiciente il campo. Si assisteva alla partita in posizione decupito prono, pancia a terra, d'estate e d'inverno, sperando nella clemenza dei guardiani del garage stesso. Come dimenticare. Di quello stadio non si è conservato più niente, neanche le scritte sulle tribune che pubblicizzavano i nostri primi amori adolescenziali. La fretta di mettere da parte una storia straordinaria, senza quell'enfasi sana dove ognuno di noi avrebbe avuto tanto da raccontare, è la iconografia di una città rassegnata, senza ieri e senza domani. Dal resto i campobassani con le stimate del castello a Monforte sanno di una città con pochi spunti e priva di scatti di orgoglio. Il degrado di piazza prefettura, con le auto persino sui marci a piedi, rende perfettamente l'idea. Da questi microfoni allora lancio una proposta, forse velleitaria, ma che potrebbe avere sviluppi di spessore per la nostra comunità. Si abbatta all'ormai anonimo stadio di Selva Piana, per consegnare quei metri quadrati alla regione. Contestualmente si faccia rinascere il vecchio stadio al centro della città. Restituiremo sangue ossigenata a tutti i campobassani, sportivi e nonni. Scongeleremo dall'oblio Ruzzi, Scasserra, Scorrano, Biondi e tutta la compagnia. La domenica ridivenderebbe festa comandata non solo per la chiesa, ma anche per tutta la città, in una visione più laica. Il campo sportivo tornerebbe ad essere un sanduario per riconsegnarsi a migliaia di persone, indipendentemente dal livello tecnico della squadra. Ci vorrebbero amministratori creativi che non si lamentino dei soldi che mancano, più sensibili e più distanti da una dialettica ormai fastidiosa, pregna di politichese e burocratichese. Sognare e andare indietro nel tempo non costa niente. Si sa però che i sogni sono l'infinita ombra del vero. Calcio di Serie D, quinta di ritorno per le Molisane, prima della sosta di campionato, prevista anche in Lega Pro per il 10 febbraio. Se l'Isernia ospita la capolista San Cesareo, l'Olimpia agnonese se la vedrà in trasferta con l'altra prima della classe sanbenedettese. Al Cannarsa di Termoli arriva l'Ancona. Ventiduesima giornata, quinta di ritorno per il girone F della Serie D. Possiamo tranquillamente definirla la giornata degli incroci pericolosi d'alta classifica. Molisane tutte impegnate contro le prime della classe per 90 minuti da vivere tutti in un fiato. Anche perché dopo questo turno il torneo di Serie D osserverà una domenica di riposo per il consueto torneo Primaviera di Viareggio in cui sarà impegnata anche la rappresentativa appunto della Serie D. Il campionato vive un momento di equilibrio. In testa si è rallentato ma il bello è che tutte le battistrada si sono di fatto fermate. San Cesareo un punto in tre gare, San Benedettese un punto in due gare, Maceratese quattro punti in quattro gare, Termoli un punto in 180 minuti. Queste le prime quattro e come vedete il passo non è stato il solito. Al Cannarsa big match tra Termoli e Ancona. Giallorossi a quota 38, Ancona a 37 ma con una gara da recuperare. Giaco Marro deve cogliere i tre punti, le occasioni perse sono troppe e una nuova battuta d'arresto pregiudicherebbe di certo in modo definitivo la corsa al vertice. D'altronde gli Adriatici hanno sempre vinto contro le prime e sono indietro in graduatoria per sconfitte clamorose contro le ultime della classe. Non si deve più sbagliare o meglio i tre punti diventano l'unico obiettivo per Domenica. L'Ancona d'accanto suo vive la stessa situazione del Termoli. Il pareggio serve a poco, dunque è lecito attendersi una gara molto aperta. Chi non ha accusato battute d'arresto è sicuramente l'Olimpia agnonese, reduce da quattro vittorie consecutive, con il morale alle stelle, perché età e soci trasferta in casa della capolista sanbenedettese. Una partita che l'Olimpia agnonese affronterà senza pressioni e con la voglia di continuare a stupire sempre di più. All'andata finì 1-1, con rigore fallito proprio dal Bubumo Lisano allo scadere. La tranquillità degli uomini di Urbano potrebbe risultare decisiva per provare il colpaccio dell'anno. Infine la nuova Isernia, o meglio la versione rinnovata dei Biancocelesti, ospita l'altra capolista, il San Cesareo. Il calcio non pone limiti, Francesco Farina è una volpe e sa bene che adesso più che mai si potrebbe pensare al colpaccio. Morale alto, voglia di stupire e un avversario non al meglio. Certo parliamo sempre di una gara off-limits, ma l'Isernia può fare davvero bene contro il San Cesareo. Da segnalare un super Iabboni, tra l'altro in dubbio per un problema fisico, già leader del nuovo corso Isernino. Domenica di sorprese, di trionfo, di sconfitte. Di certo le sensazioni sono positive. Atletica c'è tempo fino a domani per iscriversi alla seconda prova del campionato individuale di lancio. Ricordiamo che la prima gara è stata rinviata per impraticabilità del campo. Domani pomeriggio alle 15 al campo comunale di Atletica Leggera Nicola Palladino è previsto il ritrovo di giuria e concorrenti. Il nuovo anno per la FIGC Molise si è aperto all'insegna della finale di Coppa Italia regionale, ma per il Presidente questo è stato anche un momento di riflessione con tutte le squadre del torneo d'eccellenza e promozione. Piero Di Cristinzi, dunque come consuetudine la riunione del comitato con le società di eccellenza e promozione, toccati vari punti, vari aspetti sul momento del calcio molisano che si sta vivendo appunto adesso. Sì, un ottimo incontro con quasi la totalità delle società, un poco sui punti principali di quello che è l'attività della stagione in corso, ma anche un poco sulla programmazione, sul futuro, su quello che dobbiamo fare tutti insieme. Sull'attività in corso, un confronto anche con la classe arbitrale, c'era presente il Presidente degli Arbitri Paolo Di Toro, abbiamo anche sottolineato che è una stagione dove è stato recepito abbastanza bene anche il far play dal punto di vista economico delle società, senza togliere a nessuno che ha possibilità di investire nel calcio che lo può fare tranquillamente, però il pensiero del nostro comitato, della nostra federazione è quello di conservare il più possibile questo patrimonio che è un patrimonio sociale anche della nostra regione e di non stancare facilmente i nostri dirigenti. Il momento economico è quello che è, però il calcio è un veicolo importante che può essere gestito ugualmente anche con meno fonti a disposizione. Abbiamo visto anche un bel feedback con i Presidenti delle società che hanno esposto i problemi, un momento di crescita, si è parlato anche di impiantistica sportiva e anche a livello sanitario con la questione anche dei fibrillatori. Sì, sono gli interventi molto appropriati da parte dei dirigenti, in particolar modo anche su sollecitazione da parte nostra, su alcune tematiche in particolare. siamo anche in un clima elettorale, vogliamo assolutamente che come sistema calcio regionale con la prossima legislatura regionale che ci sia un referente, ma per noi come federazione, ma in particolar modo per le nostre società, in particolare su quello che riguarda i contributi alle società, se ci sono, in che tempi vengono eventualmente elargiti, ma in particolar modo quello che ci riguarda molto da vicino è la questione della tutela sanitaria dei nostri atleti, che poi può tornare benissimo anche alla stessa ente regione, perché se si fa una diagnostica sui nostri giovani molto probabilmente possiamo avere anche dei costi inferiori. Sull'impiantistica è stato fatto già tanto, però bisogna completare questo quadro dell'impiantistica in tutte le località, non è che chiediamo sempre impianti in erba artificiale, perché sappiamo che costano, però vogliamo impianti sicuri, dove si può giocare un buon calcio, spogliatoi di qualità, spogliatoi riscaldati, dove i nostri atleti, i nostri tecnici, non devono avere il rischio di avere altri problemi fisici. La scuola calcio Mirabello sbarca sul web. Martedì prossimo verrà presentata la piattaforma della società denominata Mirabello Calcio 2.0. L'obiettivo è quello di comunicare, informare, intrattenere, organizzare, condividere e partecipare. L'obiettivo della società è quello di coniugare la tradizione calcistica con lo sviluppo tecnologico. Pallavolo femminile di serie B2 si torna in campo domani con la prima giornata del girone di ritorno. La nuova Pallavolo Campobasso riparte dalla trasferta di Pozzuoli. Ne abbiamo parlato con Lucia Procacci. Lucia Procacci della nuova Pallavolo Campobasso. Domani gara importante per voi perché ci sarà uno scontro diretto in trasferta in casa del Pozzuoli, una gara alla vostra portata. Sì, sì, domani è molto importante per noi. Noi è la prima del girone di ritorno, crediamo molto nel portare a casa dei punti perché comunque sono alla nostra portata e poi noi ci siamo comunque rafforzate con l'arrivo di Federica Costantini, una vecchia conoscenza della Pallavolo. Siamo pure maturate in questo girone, quindi crediamo molto di vincere la prima vittoria. Infatti in questa parte finale, il girone di andata, comunque si è vista sicuramente una crescita da parte della tua squadra. Ricordiamo anche l'ottima prestazione alla fine del derby contro l'Isernia. Sì, sì, sicuramente siamo cresciute come spogliatoio. Ricordiamoci che stando ragazze di 15 anni per loro era una cosa nuova e hanno risposto benissimo, anche se non abbiamo portato a casa nessuna vittoria. Siamo cresciute tatticamente e tecnicamente, molto. Questa pausa di campionato è servita a tutti per rinforzarsi un po'. Tra l'altro ricordiamo anche che invece per quanto riguarda il Pozzuoli, la vostra prossima avversaria invece ha ceduto due giocatrici. Quindi sulla carta dovrebbe essere anche un po' più debole, anche se però non si possono fare di questi calcoli. Sì, sì, loro hanno perso due giocatrici, sono comunque una buona squadra, quindi non facciamo affidamento su questo, facciamo affidamento più sulle nostre forze, i nostri miglioramenti. 13 gare davanti, l'obiettivo comunque è quello di portare a casa qualche punto e capitalizzare i sacrifici che comunque state facendo. Sì, sì, sicuramente siamo state comunque molto sfortunate perché abbiamo avuto vari infortuni importanti, quindi diciamo che ci hanno un po' penalizzato. Ci siamo riprese, questa pausa abbiamo lavorato molto, abbiamo studiato attentamente la partita di sabato e speriamo di fare una buona prestazione. Diciamo che si è vista comunque una crescita, abbiamo già detto comunque, della squadra alla pecca, della nuova pallavolo, sta forse un po' sul muro perché è un muro un po' più basso il vostro. Sì, sì, sicuramente troviamo ragazze con un'altezza diversa e anche per le nostre ragazze è un gioco molto più veloce quindi non è facile adattarsi all'inizio, però siamo migliorati, siamo fiduciosi per questo. Match casalingo ma con la prima della classe corato per l'Europea 92. Le molisane sono fuori di un punto dalla griglia promozione. La gara per inizio alle 18.30 al Palafraraccio. Basket in divisione nazionale C, domenica sedicesima giornata di campionato. Il Venafro alle 18 ospiterà il Vasto. In C regionale domani alle 18 l'NBC sarà ospite del Roseto mentre il campo basket attende il Sulmona. Il quadro si chiude domenica con Termoli Sulmona, Isernia Amatori Pescara e Pescara Basket, Ripa Limosani, palla a due alle 18.00. Calcio a cinque riprendono domani i campionati in catetteria la Five ospita il Molfetta. La Isernia sarà di scena a Conversano. Grare interessanti in chiave salvezza e promozione anche nella C1 regionale. La Isernia continua a cullare un sogno che potrebbe concretamente divenire realtà. La squadra allenata da Scarpitti si reca in provincia di Bari contro il Conversano per un'esterna che sulla carta dovrebbe essere foriera di altri punti per i pentri. I pugliesi non navigano in bellissime acque anche se possono vantare un distacco di sette punti dal Monopoli, quella che, tanto per intenderci, oggi scenderebbe in serie C1. Sulla carta meno agevole risulta il compito della Five Campobasso contro il Molfetta, quarta forza del campionato. Sanginario non si sente sconfitto in partenza, pur sapendo che i pugliesi verranno allo sturzo di Campobasso senza dubbio per portare a casa l'intera posta in palio. Five decimata dalle assenze, mancherà il febbricitante De Simio, problemi muscolari per Lombardi, Fusco e Di Stefano. Nelle fila pugliesi, una delle conoscenze di mister Sanginario, si tratta dell'italo-brasiliano Edson Mongestein Jr., giocatore del tecnico Campobassano ai tempi della Torre Maiano. Tra una settimana al palazzetto dello sport di Miranda andrà esce nel derby tutto molisano tra Aeserni e Five Campobasso. Per quanto riguarda il campionato di Serie C1, una settimana fa si è giocato l'anticipo tra Tecno Electric e Futsal Campobasso, terminato 5-2 per i padroni di casa. Riprende l'appassionante testa a testa tra Chaminade Campobasso e Venafro, entrambe a quota 40 punti. I ragazzi di Fasciano ospitano allo sturzo il San Pietro in Valle a partire dalle ore 17.30. Un'ora più tardi la Scarabbeo Venafro se la vedrà a domicilio contro il Colli al Volturno. Sì, il 5 e 6 febbraio, la pista del Caprio a Campitello Matese ospiterà la prima edizione dello slalom gigante Trofeo Molise. Le iscrizioni verranno chiuse domenica alle 16.00. La chermessa è organizzata dallo sci-club Campitello Matese. Riprendono domani i campionati d'eccellenza e promozione. Se il fischio d'inizio degli anticipi è previsto domani pomeriggio alle 14.30. Da domenica le squadre giocheranno alle 15.00. Da questa domenica in tutti i campionati regionali dall'eccellenza alla seconda categoria compreso il torneo di calcio femminile che ha preso il via domenica scorsa le gare avranno inizio alle 15.00. Se in eccellenza e promozione non ci saranno più cambiamenti negli altri campionati l'inizio verrà nuovamente posticipato prima alle 16.00 e poi alle 16.30. Ma domani gli anticipi avranno inizio ancora alle 14.30. Tre le gare in programma nella massima serie regionale e altrettante in promozione. All'antistadio Selvapiana il Campobasso 1919 se la vedrà con il Boiano. I Matesini dopo il pareggio con il sesto Campano sono stati agganciati in classifica dal Fornelli che domenica ospiterà la Maronea. Il Campobasso 1919 è una buona squadra ma in questa stagione non è stata costante nei risultati. Tre punti in chiave salvezza con questo obiettivo domani scenderanno in campo sia Virtus Matesina-Venafro che Pozzilli-Montenero. Partiamo dal match di Sant'Angelo di Alife. Se i locali sono reduci dalla vittoria in casa del Montenero il Venafro nell'ultima uscita di campionato ha messo KO la corazzata della Turris. L'ultimo anticipo si giocherà a Capriati al Volturno. Il Pozzilli terz'ultimo in gradatoria ospiterà il Montenero per ora fuori dalla Greia Playout. Scendiamo in promozione il Ripalimosani che deve risalire la classifica ha una gara molto impegnativa in casa della Lief terza forza del campionato ma i ragazzi di Bentivoglio anche nel recupero con il campo di pietra hanno dimostrato di non essere la squadra materasso. Stanno lottando per mantenere la categoria Biferno e Real Roccavivara che domani si affronteranno sul sintetico di Guardia Alfiera e nuovo vinchiaturo Casalericcia che scenderanno sul sintetico di Baranello. È tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio. Grazie per la visione!